La vedi questa? È la centrale elettrica, il luogo in cui si nasconde il nostro Zapdos. Andiamola a catturare. Lo senti questo sound? Siamo su Pokémon Rosso Fuoco. Eccoci arrivati. Quanti ricordi. Eccolo! Oh mio Dio! Senti, senti. Ma quanto sei bello! La strategia è questa, la addormentiamo, mandiamo in campo Cider, falso finale, lo portiamo un PS e lo catturiamo. Good night, baby! Sangoo! Insomma. Ultimo falso finale, direi che ci siamo. Perfetto, e adesso via di Poké Ball. Prima che gli finiscono i pp, meglio andare di Ultra Ball. Uuuuh, preso! Il numero 145. Seguimi se vuoi sbloccati nuovi ricordi.